Oh, cosa fai qua con questi stivaletti nuovi? Fammi un po' provare e li metto oggi eh! Così ti faccio un po' di test. I vecchi vanno da lì. Facciamo test con quelli nuovi. Adesso ti faccio un po' di giri così vediamo anche come calzano. La cosa incredibile è che sono realmente molto molto comodi. Calzano subito benissimo. Adesso però la prova, il test vero è in pista. Vediamo come funzionano. C'è da dire una roba, Sidi non ne sbaglia mai uno. Quindi questo anche se è un'evoluzione, un'evoluzione vera perché è uno stivale molto diverso da tutti quelli che ho utilizzato negli anni, però da portare è una calza bellissima, comodo. I movimenti ci sono tutti. Adesso andiamo in pista, poi vi spiego com'è.